Ciao ragazzi sono il piccolo rubi, sono un po' storto, non so niente sono qui per mostrarvi le letture, il mio book haul poveraccio preso in biblioteca due libri in ebook che non posso mostrarvi perché non registro con robbi fighi non fate caso al buco, vabbè e un libro che bramavo da tantissimo tempo e poi la bitch che andrà a formare che è andata appunto a diventare la nuova componente della Family Bitch come sapete io colleziono bitch, se non sapete che cosa vuol dire allora innanzitutto vorrevo farvi vedere il libro dei cento libri della BBC e quello del domino letterario allora quello dei cento libri della BBC è Shakespeare la lista diceva tutta l'opera completa però voglio dire io ho dato ampia scelta nel senso che ne basta leggere uno io ho Romeo e Giulietta ma sinceramente non lo so vedrò se riesco a recuperare il Macbet perché questo non mi piace o in massimo li leggo tutti e due così dato che sono lettura abbastanza veloci quindi se volete partecipare questo è il libro del mese su David Copperfield sinceramente non so se riuscirò a leggerlo per il 15 quindi lo manderò successivamente perché il mese di dicembre sarà un mese veramente devastante tante verifiche, tante cose da fare quindi non lo so nel caso io non riuscissi la pubblicazione avverrà sempre nella data ovvero il 15 dicembre io poi farò un video riprogativo del terzo e quarto appuntamento quindi questo Shakespeare poi il libro per il domino letterario è Confessioni di una maschera di Mishima poi se riuscirò recupererò altri due o tre romanzi e poi vi parlerò di questo autore che è assolutamente geniale sì l'avevo incominciato però poi devo finire due libri spero di leggerli presto ci vorrebbero aggiornati da 72 ore perché in 24 ore io non riesco a fare tutto allora vi faccio vedere i libri che ho preso in biblioteca prima di farli vedere vi dico che ho comprato Vertigine di Sophie Joumen è in lettura sinceramente avrei tante cose da dire su quel libro quando l'avrò finito quindi preparatevi e poi ho letto di Henry De Luca anche i pesci dormono i pesci... oddio scusate non mi ricordo il titolo perché sto pensando che oggi ce la verifica quindi comunque è quello e anche i pesci dormono anche i pesci non dormono adesso vabbè comunque qualcosa inerita il pesce di quello poi ve ne parlerò successivamente quando vi farò vedere i primi approcci all'autore poi cosa ho preso in biblioteca? allora in biblioteca ho preso Di Kawabata Koto eccolo qui ovvero i giovani amanti dell'antica città imperiale eccolo qui libricciuno molto piccolo Di Kawabata dicevo Di Kawabata non ho letto nulla al momento non so se l'aveva scritto anche Il Paese delle Nevi ma quello non l'avevo letto per mancanza di tempo perché comunque non mi ispirava questo qua devo dire che mi ispira parecchio l'edizione è arcaica proprio non so di che anno è sinceramente non c'è scritto non so neanche di che collana è comunque Palme Nobel del 1968 allora mi sa che usciva con una cosa di madonna settima edizione no prima edizione Burr vabbè qui mi dia 1969-1974 quindi è abbastanza vecchiottina e quindi penso di leggerlo presto io non organizzo mai le letture voi lo sapete poi un libro che mi incuriosiva però sinceramente il prezzo era esoso fortunatamente ho trovato tutti e tre i libri in libreria ho preso il primo ed è di Elena Ferrante l'amante geniale amica amante boh vabbè e praticamente è un serie di tre libri qualcuno aveva parlato bene qualcun altro credo di no ma forse sto dicendo una cazzata comunque mi incuriosiva leggerlo è una storia che si dipana in tanto tempo e sì il prezzo è sinceramente abbastanza esoso perché costa 18 euro cioè 18 euro per comunque una brussuola con due elette così mi sembra un po' esagerato per quanto riguardano le mie tasche se voi lo prendete col 15% su amazon costa comunque 16 euro e che per me per un libro del genere è troppo già sui 14 euro andava bene ma 18 no comunque vedremo edizione dalla E.O e vedremo com'è se qualcuno ha letto mi fa un fischio poi un autore che io non ho mai affrontato questo lo vedrete insieme a Henry De Luca in primi approcci con l'autore è Barico c'erano mare gli avevano tanti di Barico io sinceramente non sapevo da quale partire sono partito da questo perché c'era il mare avevo nostalgia al momento del mare quindi ho preso questo e niente di Barico non ho mai letto nulla ho visto qualcuno che stava parlando tipo della sposa giovane se non ricordo male qualcuno aveva letto 900 che è un libricino che si legge in 5 minuti 5 minuti no comunque mezz'oretta perché la mente è molto piccolo e poi ne aveva comunque tanti altri se questo qua mi convince comunque mi convince la sua scrittura andrò avanti vedrete vedremo poi un fantasy che mi incuriosiva parecchio tra questo ho scoperto che c'è anche la versore brossurata in in come si dice su Amazon dell'edito dell'Atea questo è edito dalla Nord però non ho visto i seguiti quindi non lo so parla di viaggi del tempo mi incuriosiva parecchio sto parlando di Gideon il tagliaborse eccolo qui qua sotto c'è scritto il futuro della storia e nelle sue mani qui potete vedere un tizio con un impiccato che tiene in mano una spada eccolo qui dietro c'è una lettera scritta e niente mi incuriosiva parecchio se nel caso non riuscissi a leggerlo lo recupero in brossura ve che considerate che sono due mesi che dovresti quindi fine gen singhiotto fine gennaio e questo è il quanto poi volevo prendere quello della Troisi ma al momento non ero nel mood giusto poi gli ultimi due che ho preso sono Philip Roth l'inganno eccolo qui mai affrontato nulla vedrò di riuscirli a leggere insieme a Baricco così poi vi parlerò anche del libro di Harry De Luca che in vi anticipo non mi è piaciuto questo consta di centocinquantuno pagine quindi dovremmo si se volessi mettere l'impegno lo finisce anche in poco tempo come anche Oceano Mare allora di Roth avevo letto letto Lamento di Portonoi ma l'avevo accantonato per il momento perché forse non era il momento giusto comunque vi dico che Lamento di Portonoi è molto simile alla coscienza di Zeno ovvero che voi potete leggere le parti anche non in ordine che non fa niente insomma e quindi si basa anche molto su quello sulla psicoanalisi poi c'è la come affronta lui la sessualità e quant'altro questo qua mi incuriosiva adesso io non non ho dimestichezza corrotta sinceramente e vedrò cosa poi vi farò sapere vi darò notizie poi l'ultimo libro che ho preso libro che era uscito con il 90 con i due libri a 9,90 io non l'ho preso perché sinceramente non mi ispirava vi devo dire la verità ho preso altro e spero che quella offerta della Feltinelli ritorni perché è stata veramente molto molto bella qualcuno ha parlato male qualcuno ha parlato bene a chi è piaciuto a chi non è piaciuto devo vedere il video di Angela Angela perdonami e sto parlando di per 10 minuti della gamberale eccolo qui un vero un vero copertina rigida un vero copertina rigida che costava tra l'altro 16 euro in brusola lo trovate tipo a 7-8 euro comunque questo non lo so alcuni hanno operato bene altri hanno operato male l'ho visto in biblioteca ho detto ciao prendiamolo così almeno riusciamo a venire qua c'è un trio di babbo natale tanto per essere in tema e così e quindi questo è quanto per quanto riguarda i libri ora veniamo all'acquistone io bramavo questo libro da un sacco di tempo ne parlavano tutti alcuni hanno detto che bello altri che comunque è bello però ci sono delle cose così altri che l'hanno amato vabbè comunque se sta a parlare tutti io non riuscivo a recuperarlo perché è il libro andato fuori in produzione quindi è introvabile lo potete trovare su amazon a dei prezzi veramente abbastanza allucinanti perché comunque sono terzi e non lo fa amazon eccetera eccetera non capisco perché sia un libro che sia andato fuori in produzione ho avuto un grande culo grande culo a trovarlo perché lo vendeva una ragazza e come ho visto la foto boh subito mi sono fiondato sono veramente felicissimo e spero di leggerlo presto e sto parlando del cerco della notte di erin morgesten eccolo qui che io voglio dire una cosa allora se voi leggete la letta qui c'è scritto settembre 2010 la casa di produzione americana Double Day acquista il circo della notte per un anticipo record subito si scatena la competizione tra editori stranieri per aggiudicarsi i diritti di pubblicazione attualmente venduti in 30 paesi poi gennaio 2011 la Summit Entertainment casa di produzione di Twilight acquista i diritti per l'adattamento cinematografico del romanzo quindi dove doveva avrebbe dovuto esserci anche un film settembre 2011 in anticipo data di pubblicazione americana il circo della notte si piazza ventisimo nella classifica di bestseller su Amazon per debuttare poche ore dopo l'uscita in libreria al secondo posto della classifica del New York Times il circo della notte è assolutamente il libro più venduto nell'associazione dei libri indipendenti americani ottobre 2011 la stampa italiana dedica ampio spazio al caso editoriale dell'anno con pezzi su molti grandi testate del Corriere della Sede e del Messaggero novembre 2011 circo della notte in interna classifica dei migliori libri dell'anno di Amazon USA e di Amazon UK Kirkus Review Publishing Week e The Gobble Globe and Mail il 25 gennaio il circo della notte esce nelle libri americane sono dimenticate di scrivere il circo della notte è andato fuori produzione non si sa per quale ha il cognito motivo quindi io veramente non riesco a capire come questo libro sia andato fuori produzione considerato che nel 2011 cioè voglio dire non è che sono passati 20 anni cioè sono passati pochi anni io proporrei di far uscire fuori produzione i libri che ho recensito in malo modo se quelli magari vabbè comunque non vedo l'ora di leggerlo adesso lo devo infilare da qualche parte perché il tempo è poco e ho tantissime cose da fare e adesso veniamo alla beach allora se mi seguite su la pagina facebook su instagram su vari cosi magari l'avete già vista insieme alle altre come saprete io sto collezionando tutte le stronze e la stronza numero 3 è lei eccola qui maleficent guardate com'è bella col io invidiavo il suo bastone sinceramente col suo bastone eccola qui con le sue corna ecco questa almeno c'ha lo sguardo da stronza cosa che non ha sersi eccola qui questi sono i dettagli che bella che bella questa stronza io la amo la adoro eccola qui adesso me ne mancano altre due e ho completato la le beach eccola qui sì beach e cattivi no nel senso eccola qui è fantamega bellissima tra l'altro l'ho pagata anche pochissimo se volete vi lascio il link qua sotto se volete acquistare stava 10 euro tipo vi ricordo che se passate dal mio link stronzi se passate dal mio link io ricevo una percentuale comunque sotto il video vi lascio tutti i canali tutti i link ai social se volete seguirmi soprattutto gli sprochi su snapchat poi il link da ci vediamo il 28 per ve lo ripeto il 9 dicembre ci sarà l'incontro incontriamo ruby speriamo che siate in tanti ci vediamo a gennaio con le letture con tutto quello che c'è e il 28 per la discussione del confezio di una maschera molto bene il video è finito fatemi sapere tante cose belle io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao un bacione da me e la stronza ciao ciao Grazie a tutti.